Commissione Garanzie e Controllo oggi incandescente in comune. Sul piatto la nomina del comandante della Polizia Municipale. A far esplodere il caso nuovamente consiglieri di opposizione Enrico Verini e Gianni Padovani, c'è stata già una sentenza del Consiglio di Stato che ha confermato la scelta del Tarra di bocciare l'incarico dell'avvocato Domenico De Nardis. Sentenza comprovante il carattere di specialità del Corpo di Polizia Municipale che ha fatto notare anche la CGL che è intervenuta sulla questione. Tutta l'opposizione ora getta benzina sul fuoco perché il comune per loro continua da anni a nominare in modo illegittimo il capo dei vigili, prendendo dirigenti comunali e non appartenenti al Corpo. Non è una denuncia, è una necessità. Noi pensiamo che una città capoluogo di regione debba avere un comandante della Polizia Municipale come esiste in tutti i capoluoghi di regione ma anche di provincia. Io credo che la Polizia Municipale ha una struttura gerarchica che non è che quella di un ufficio amministrativo, cioè non siamo all'anagrafe. Per dirigere un corpo che ha anche delle funzioni di polizia, di controllo del territorio, di necessità di intervenire sulla sicurezza, serva un comandante appunto. La normativa parla chiaramente di questa necessità, lo abbiamo sostenuto nei mesi scorsi. I ricorsi al Tarra e in Consiglio di Stato del Comune che avevano una tesi diversa hanno dimostrato che avevamo ragione noi. Ora quello che chiediamo, più che stare a rivangare sull'atto diversato e su quello che non è stato fatto nella maniera in cui si sarebbe dovuto fare, è di procedere speditamente verso la nomina di un comandante perché serve. Il comandante serve perché anche all'interno del corpo della Polizia Municipale si avverte questa esigenza. A noi, con noi parlano le persone che lì lavorano e tutte lamentano la necessità di avere una struttura gerarchica più definita e più stabile anche.